Jessica Franceschetti in un selfie allo specchio, la posa particolare permette di ammirare tutti i suoi punti di forza, esplosiva come non mai esplosiva, sensuale, provocante. C'è tutto in Jessica Franceschetti, influencer i cui numeri su Instagram stanno crescendo a vista d'occhio. Sfondato ormai da tempo il muro del milione di followers, un traguardo che in Italia non sono in tantissimi a potersi vantare di aver raggiunto. Jessica è entrata di diritto in una sorta di gota del web ed è difficile del resto stupirsene. Il suo fisico mozzafiato e i suoi scatti ormai sono un must su tutte le bacheche e i fan impazziscono per lei. Anche perché la bella Vicentina unisce al suo fascino anche una notevole passione per il calcio, che per fare presa sul pubblico maschile non guasta davvero mai. Leggi anche Jessica Franceschetti, seduta per terra mette in mostra tutto, da perdere la testa anche lo scatto di oggi, da parte di Jessica, è quanto di più spettacolare si possa immaginare. Non è da tutti del resto trasformare un normale selfie davanti allo specchio in un autentico capolavoro. La posa seduta per terra, con le gambe incrociate, da sola basterebbe, ma c'è molto altro. Leggi anche Jessica esibisce la solita generosissima scollatura che rappresenta uno dei suoi principali punti di forza. Una visuale del lato a che fa davvero sognare, ma in primo piano risaltano, e come le sue gambe lunghe, affusolate, perfette. Completamente a nudo e che al di sotto lasciano anche intravedere un dettaglio piuttosto piccante, impossibile da non notare per i più attenti. I like e i commenti estasiati, come sempre, sono soltanto una conseguenza. Grazie a tutti. Grazie a tutti.